E ora a Nuoro sulla scia del gemellaggio culturale che si è appena concluso tra la Cina e la Sardegna sulle orme dei percorsi letterari e culturali di Grazia Deleda si scopre che i prodotti tipici sardi sono richiestissimi ad Hong Kong. Franco Pisano. A Hong Kong, città internazionale come pochi altri al mondo, piacciono da matti i vini, i formaggi, i dolci sardi ma soprattutto il pane carasau. La notizia, per tanti versi sorprendente, è emersa a margine della visita a Nuoro della delegazione della Hong Kong University alla scoperta dei luoghi di Grazia Deleda e fa immaginare per i prodotti isolani un nuovo interessante mercato. Hong Kong è una città molto internazionale, di conseguenza non parliamo soltanto dei locali, ma c'è gente da tutto il mondo, quindi francesi, americani, inglesi e quando abbiamo iniziato a fare questo progetto che si chiama Buonissimo dove vendiamo il cibo italiano di alta qualità in Hong Kong e abbiamo poi proseguito con il dottor Offeddu con il progetto Grazia Deleda, abbiamo notato che c'è stato un riscontro incredibile, un apprezzamento del prodotto sardo da parte di quasi tutte le razze presenti in Hong Kong. Perché i prodotti sardi possano essere apprezzati occorre farli assaggiare, dice Foppa, ed eventi come quelli che hanno riguardato la Deleda possono sicuramente favorire l'approccio, ma correrà riuscire a soddisfare quantitativamente e qualitativamente le richieste di quel mercato e curare al meglio i trasporti per non perdere questa opportunità.